Buonasera, in un mondo che cambia, cambiano anche le regole del gioco per quanto riguarda gli istituti di credito. Abbiamo ancora tutti nella mente quello che è accaduto soltanto qualche mese fa a quattro importanti istituti di credito, risparmiatori che hanno perso tutto, risparmiatori che hanno perso dei soldi. Cambiano le regole e questa volta tocca alle regole di importanti istituti come le banche di credito cooperativo. In questi giorni chi segue un po' le notizie anche di tipo economico avrà letto in giro sui giornali che c'è una sorta di riforma anche delle banche di credito cooperativo. E allora noi questa sera vogliamo approfondire un po' con termini semplici, cercando di spiegare al meglio questa riforma o autoriforma, come vedremo tra poco. Lo faremo con due ospiti di riguardo. Sono il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano Romualdo Rondina e il Direttore Generale dell'Istituto di Credito che ha sede a Cucurano di Fano, Giacomo Falcioni. Buonasera e grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, cominciamo subito, senza spaventare troppo i nostri telespettatori, cominciamo subito da questo argomento, cioè l'autoriforma, questa riforma delle banche di credito. Innanzitutto cominciamo da qui. In che cosa consiste questa riforma? Ma essenzialmente consiste in una ricerca di una maggiore integrazione, maggiore collaborazione da parte delle oltre 360 banche di credito cooperativo italiane, che sono al momento diverse, diverse per storia, diverse anche per forza patrimoniale e anche, se vogliamo, per qualità degli impieghi, qualità dell'attivo. L'Italia, se consideriamo dalla Val d'Aosta, Trentino fino ad arrivare in Sicilia, è sicuramente con situazioni diverse. Partendo da questo, la volontà che non parte soltanto dall'Italia, era un po' quella di rafforzare il credito cooperativo, cercare una maggiore coesione creando sopra una capogruppo bancaria che ha natura di SPA. Io premetto che noi, come credito cooperativo già, aderiamo a un gruppo bancario, che però non è quello voluto in questo provvedimento, che però ha dei buoni numeri. Abbiamo in realtà un Crea Holding che ha oltre un miliardo di patrimonio di capitale sociale, un patrimonio netto di oltre un miliardo e sette e noi in questa Holding abbiamo una buona partecipazione, abbiamo circa 7 milioni e poi, qui lo può dire benissimo il direttore, e noi conosciamo, nell'ambito del gruppo bancario, le società che poi ci forniscono servizi e prodotti. Per cui non ci preoccupa tanto la creazione e la coesione, perché di questo siamo abituati. Allora, praticamente, traducendo un attimo e cercando di essere ancora più semplici e magari di schematizzare un po' il concetto, allora, circa un anno fa, possiamo dire, l'Europa, come al solito, ha cominciato a mettere mano, quindi prima diciamo di tutto quello che è successo, quindi è un fatto antecedente questa idea che adesso svilupperemo, antecedente rispetto a quello che poi è capitato a Banca Etruria, eccetera, eccetera, quindi non è successivo, non è una cosa che è successa dopo. Quindi l'Europa ha deciso di mettere mano, di capire un attimo, come organizzare le banche di credito. Come ha detto il Presidente, sono più di tre c'è, sono 360-370. Ognuna di queste 370 banche ha una sua autonomia, quindi un suo Presidente, un Direttore, i Consigli di Amministrazione, è una banca a sé. Evidentemente questa cosa, io non capisco però perché, ha l'Europa un po' la spaventata, nel senso che questa riforma o autoriforma, tende a rafforzare il sistema bancario, cioè nella loro testa c'è quello di rafforzarlo. In che modo? In questo modo. Facciamo, eleggiamo un capo, facciamo un disegnino un po' infantile, facciamo una grande banca che abbia un capo al vertice e sotto tanti sportelli. Quelle che oggi sono tante banche, domani potrebbero essere tanti sportelli, ma in realtà questa è una cosa che noi non volete, perché voi volete mantenere giustamente la vostra mutualità, la vostra autonomia, le vostre banche sono legate al territorio, quindi non guarda tanto, certamente fate banche, quindi guarderete anche gli utili, i profitti e quant'altro, però non è il vostro obiettivo principale. Invece l'Europa, che di questo ha poca sensibilità, mi pare di capire, imbarba tutte queste cose e vorrebbe che le BCC diventassero sempre più forti, sempre più coese, per essere che cosa? Allora, noi vogliamo avere un patto di coesione con questa capogruppo, coesione con obblighi reciproci. È chiaro che se pretendessimo di fare quello che ci pare nell'ambito di una maggiore coesione, questo non è possibile. Infatti, questo decreto ancora rimanda a un decreto ministeriale che dovrebbe uscire fra un po' sul patto di come deve essere questo patto di coesione. Quindi noi, le nostre azioni, i nostri soci rimangono tali, la banca non la svendiamo nessuno, rimane nostra. C'è soltanto questo accordo fatto con una capogruppo, che ripeto ci sarebbe già, ma per coinvolgere tutti quanti se ne farà una nuova magari, ma poi... Ma chi è questa capogruppo? L'avete individuata? La capogruppo, ho detto, potrebbe essere una NUCO, oppure potrebbe essere la stessa... New Costa per New Company, una cosa nuova, una nuova società. Traduco perché mi piace che la gente a casa capisca. Su questo si sta discutendo, ma il decreto non dice, potrebbe essere anche una banca che già è in piedi, è una banca che dovrebbe comunque coinvolgere, essere aperta a tutti quanti. Però cosa è successo? Non vogliamo manco essere, diventare un SPA. Eppure in questo decreto c'è una via di uscita che praticamente darebbe la possibilità a quelle banche che hanno un patrimonio netto superiore a 200 milioni di poter diventare SPA pagando... Senza far parte di questa... Chiaro, chiaro. Di questa grande compagnia di banche, no? Ecco. E questo qui avverrebbe pagando un'imposta straordinaria del 20%. Naturalmente la domanda adesso che, visto che siamo con, io sono qui con due ospiti che riguardano invece la banca di credito cooperativo di Fano e parliamo con 6.000 passasoci. 6.700. 6.700 soci che sono tanti. Allora, a questi 6.700 soci diciamo che cosa avete intenzione di fare, qual è la strada che avete intenzione di intraprendere? Far parte chiaramente di questo grande gruppo oppure fare una SPA, pagare 200 milioni o quello che è? No. Qual è la nostra strada? La nostra natura è di banca di credito cooperativo, quindi è continuare nella nostra strada, è una strada di continuità nell'ambito di una legislazione europea che è nata in un certo contesto di vigilanza unica, però noi riteniamo che il nostro punto di forza è la banca di credito cooperativo, quindi si tratta di rafforzare un po' attraverso questo patto di coesione quel legame con le società prodotto che abbiamo già, quindi io lo voglio mettere anche in positivo, dobbiamo rafforzare i legami positivi di governance, di controllo per efficientare un po' tutta la filiera e al centro ci deve essere sempre il cliente, quindi se l'obiettivo è dare servizi migliori alla nostra clientela anche a prezzi più bassi, riducendo i costi operativi di filiera, questo è sicuramente un dato positivo. Quindi l'autonomia della banca di credito cooperativo di Fano non è in discussione? Assolutamente, questo decreto non mette in discussione l'autonomia della banca di credito, chiaramente stabilisce qualche regola del gioco in un sistema a rete più rafforzato, che vanno rispettate attraverso tutte le... Quindi continuerà ad avere un suo consiglio di amministrazione, un suo presidente, un direttore generale e i soci, che non sono azionisti, soci, continueranno a rimanere con loro che hanno la forza decisionale. Questa è la nostra valutazione, ovviamente ci sarà un passaggio assembleare perché noi possiamo anche immaginare che qualche socio magari la possa pensare diversamente. Io ritengo di no perché quando andiamo a vedere soprattutto gli ultimi ingressi nella compagine sociale, le motivazioni sono sempre perché facciamo iniziative mutualistiche, perché abbiamo borse di studio, perché facciamo il bonus bebè, perché diamo finanziamenti a un tasso di favore più agevolato ai soci. Quindi tutti questi elementi qua mi fanno pensare che se noi perdessimo la natura mutualistica della nostra banca, diventassimo S.P.A., ancorché qualcuno potrebbe dire, ah ma così io posso avere il patrimonio nostro di 95 milioni, che non è poco, diventerebbe al netto di questa tazzazione, ripeto. Quindi 95 milioni. Però questo non ci è consentito perché comunque la via d'uscita riguarderebbe soltanto quelle che hanno 200. Però qualcuno diciamo, questo qui è anticostituzionale, perché se c'è una possibilità di uscita, perché no a 190 o 180 o a 100. Anche perché su questa famosa via d'uscita che in inglese viene chiamata in un altro modo, layout. Esatto. E allora è l'unico nodo che ancora non si è riuscito a sciogliere in qualche modo. Forse si sta ragionando, eccetera. Però anche se dovessero abbassare di 200 milioni, portarli a 90 o a 100 e voi riusciste con i fondi... È fuori da una discussione. Perché? Innanzitutto la nostra banca esiste e può funzionare perché è a rete. Quindi quelle società che dicevamo adesso, che già sono funzionanti, a noi ci danno un servizio formidabile. Il sistema dei pagamenti con i Crea Banca, gli sparghi di previdenza per quanto riguarda le gestioni patrimoniali, i fondi e poi il credito al consumo. C'è un bel gruppo di società che ci danno già dei servizi, che sicuramente faranno sempre riferimento al gruppo bancario. Non può essere che così. Quindi non ne discutiamo, ma... Mi viene da pensare così che l'Europa abbia scelto di rafforzare qualcosa che è già forte di suo nel territorio. Quindi davvero non si capisce come si possa arrivare a prendere così di fare delle scelte, però poi queste sono cose... Ma si può capire un po' di tecnocrazia, mi permetto di dire, perché abbiamo sentito anche in sede di ispettiva che qualcuno a livello europeo diceva, beh, la vigilanza unica, no? Perché si parla di unione monetaria nel 2000, poi unione bancaria e poi dopo abbiamo anche la vigilanza unica, perché fatta l'unione bancaria europea, quindi chi ci guarda, la BCE, ci guarda ormai a livello europeo. Si chiedono, ma com'è possibile che in Italia ci siano tante piccole banche, tra l'altro completamente autonome. È da lì che parte la pressione dell'Europa a dire, ma noi non possiamo ottenere una struttura di tante banche, anche piccole, perché ce ne sono il 50% di banche di credito cooperativo che hanno patrimonio non più alto di 25-30 milioni, 20 milioni. Con così tanta vigilanza mi viene da dire, come mai l'Europa non si è accorta di quello che stava succedendo dentro Banca Marche o Banca Etruria o Banca... come mai? E qui voglio introdurre un altro aspetto, cioè quello della, appunto, vigilanza. Anche la Banca di Credito, naturalmente, di Fano, come tutti gli istituti bancari, sono soggetti a delle ispezioni ordinarie che effettua la Banca d'Italia. Mi pare che voi ne abbiate ricevuta qualcuna recentemente e che si è conclusa con che cosa? Sicuramente si è conclusa con esito favorevole, è una normale ispezione ordinaria che mediamente ogni 3 o 4 anni è prevista per anche le banche di credito cooperativo. È stata l'occasione di riflessione interna perché poi c'è la vigilanza della Banca d'Italia, ci sono altri organismi di controllo, abbiamo il bilancio certificato, la società di revisione, quindi siamo abituati ai controlli. Chiaramente questo è stato un controllo più intenso che ha messo alla prova anche la nostra struttura. L'abbiamo visto positivamente perché è un'occasione di crescita per verificarsi internamente e cercare anche di proiettarsi al futuro con maggiore consapevolezza. Quindi da questo ne è scaturito anche l'approvazione del nuovo piano industriale 2016-2018. Di cui parleremo tra poco. Quindi mi pare di capire che la banca di credito cooperativo di Fano è una banca in salute. È una banca in salute, che va bene, che soffre come tutto ma soffre poco in Magno. Voi chiamate sofferenze... Non ci vogliamo vantare minimamente, però oltre ad avere il patrimonio in valore assoluto più alto in ambito regionale, però parliamo delle regioni Marche, poi dopo abbiamo visto che se andiamo in ambito nazionale ci sono banche che hanno 200-300 milioni di patrimonio, fino ad arrivare al BCC di Roma no, bisogna dirlo che è la più rossa. Però ogni Marche mi pare che si è messi bene. Quindi allora, siccome poi tra l'altro a livello europeo, quello che conta più di tutto anche il CET1, questo rapporto che viene messo in evidenza anche delle banche italiane, noi abbiamo sopra il 17%, però voglio dire che il patrimonio non è tutto, perché poi gli indici, in modo per misurare la validità di una banca, la solidità, ce ne sono anche degli altri. Adesso non gli stiamo a elencare tutti gli indici, ma sta di fatto che e qui do atto al direttore che noi siamo primi in tanti altri settori, da quello per esempio di collocamento delle polizze, per quanto riguarda poi oltretutto i volumi complessivi, ma diciamo in ambiti che sono ambiti operativi. Con questo però vogliamo collaborare con tutte le BCC marchigiane. Quindi questo qui è il dato. Quindi mai abbiamo pensato di essere autori, anche se qualcuno dice, beh sarebbe ora di fare qualche fusione, se si fa qualche fusione, qualche concentrazione e qui è la volontà anche. Ci avete pensato a qualche fusione? Noi non è che ci abbiamo pensato, però sicuramente se ci sono situazioni in cui la fusione non è soltanto un salvataggio, ma è una prospettiva di crescere meglio, di rafforzare. Questo qui non è da escludere, anche perché altrimenti la crescita, come è stato fatto in alcune regioni, avviene sempre a carico di piazze, su piazze dove c'è una sovrapposizione. Questo provvedimento si accenna al discorso delle fusioni oppure no? C'è un invito a come avviene per esempio nei comuni, no? 8.000 comuni in Italia sono tanti, c'è questa tendenza... Direttore, sarà una conseguenza a quel patto di coesione che dicevo prima, perché se c'è una capogruppo che ci guarda da più lontano, dice ma come è possibile che nel territorio di Fano o in Ancona o Senigallia... Ma quali saranno i compiti di questa capogruppo? Se voi manterrete l'autonomia, questa capogruppo alla fine cosa dovrà fare? Dovrà sicuramente controllare e verificare i nostri conti, uno potrebbe dire... Sostituirsi alla Banca d'Italia o aiutare la Banca d'Italia. Ma in un certo modo essere veramente di supporto anche a quell'attività ispettiva di altri organismi come la Banca d'Italia, perché questo capogruppo avrà secondo me la possibilità di fare un agire in via preventiva, se una banca non va bene, se in certi parametri non va bene... lancia l'alarme ma anche la forza per intervenire, questo è il discorso, per fornire capitale se del caso e per questo anche la natura di SPA, perché pur restando alla maggioranza al credito cooperativo potrebbe esserci anche qualcuno che ha pazienza magari, perché non è che va a cercare subito i dividendi, di poter anche fare un apporto nel capitale di questa capogruppo. Quindi l'ingresso di società, privati, gruppi forti... per esempio fondazioni... fondazioni... fondazioni, quando diciamo anche le fondazioni quelle bancarie, che magari per diversificare i loro investimenti, o comunque anche a livello europeo, ma questo qui per adesso non ce n'è bisogno, bisogna dirlo chiaramente, perché se no sembrerebbe che facciamo questa cosa qua in velocità perché qualcuno deve intervenire, assolutamente non abbiamo bisogno. Quindi anche perché il patrimonio complessivo, se tutte le banche di credito cooperativo stessero insieme, avremo l'aggregato in termini patrimoniali più grosso d'Italia, più anche della banca intesa, avremo 21 miliardi di patrimonio. Quindi è vero, poi ci sono le sofferenze, bisogna vedere tutti gli altri aspetti, lo dicevo prima, il patrimonio non è l'unico elemento di solidità, però è una buona parte, onestamente. Direttore, io... Lei accennava prima, direttore invece, di questo piano triennale degli investimenti, è importante comunque fare accenno, conoscere quali sono le prospettive da qui ai prossimi tre anni, i vostri intendimenti, proprio per... anche perché dà subito il senso che le cose stanno andando comunque bene, perché uno che programma vuol dire che ha la possibilità di farlo, quindi in che cosa consistono questi nuovi... Chiaramente ogni programmazione parte dall'analisi della situazione attuale, approfondita e questo è importante, ribadita tra l'altro con l'approvazione del bilancio 2005, che presenta un utile di un milione e ottocento... 2015. 2015, scusse, di un milione e ottocento mila euro di utile, quindi un risultato buono, una reddita ordinaria, attuale, prospettica, discreta per la banca, derivante dalla tenuta anche del margine di interesse, nonostante i tassi di mercato negativi, derivante dall'incremento del margine dai servizi, dalle commissioni. Questo è un indicatore dell'aumentata operatività della banca per servizi bancari, ma non solo. Facciamo prima riferimento alla banca assicurazione, al credito al consumo, alla monetica, tutti questi servizi che vengono dati in sinergia con le società del gruppo. Molto, tra l'altro è una pubblicità che credo vada in onda anche sulla nostra emittente. Il fatto che in questo momento, dove solitamente si dice che le banche danno soldi solo a chi ha i soldi e non a chi invece ne ha bisogno, mi pare di vedere uno spot che dica proprio che per incentivare la ripresa e quant'altro ci siano anche prodotti del tipo 100 mila euro a un tasso X che voi destinate appunto per le imprese. Quindi questo è un buon segnale, credo, no? E' essere concreti, dopo aver definito le linee strategiche, trasformarlo in azioni operative. Il 2015 è stato un ottimo andamento della raccolta dal punto di vista di collocamento di prodotti finanziari. Negli ultimi mesi sono ripresi anche gli impieghi, anche attraverso queste iniziative specifiche. C'è quella a cui lei faceva riferimento, degli investimenti per aziende. Abbiamo fatto un'iniziativa specifica a fine anno a favore dei soci. Faremo qualcos'altro anche a sostegno di quelle aziende che incentiveranno l'occupazione. Sono tutti elementi che danno un po' di fiducia. Per le informazioni naturalmente potete fare riferimento agli istituti e agli sportelli che sono sparsi in tutto il territorio. Sono quanti? Riepilogo alcuni numeri, 17 sportelli. Siamo una banca di comunità perché è importante parlare di 33.000 clienti e 6.700 soci. Quindi vorrei chiudere anche con un elemento positivo di questa autoriforma che è l'occasione per mettere a fattore comune non solo il sistema rete delle banche di credito cooperativo ma direi anche le economie di questi territori. E' un'opportunità anche per le nostre piccole e medie imprese di mettersi in rete anche attraverso il canale bancario. Noi faremo qualcosa per proporre ad esempio alle nostre aziende soci dei contatti con gli oltre 1.200.000 soci del credito cooperativo nazionale. Quindi guardiamo anche qualche opportunità positiva in questo senso. E l'obiettivo anche per le piccole e medie imprese è unirsi. La dimensione è sicuramente piccola, necessita di qualche legame maggiore per fruttare un po' le economie fiscali. Invece di farsi concorrenza tra di noi o tra di loro ma mettere insieme le forze per essere protagonisti anche a livello europeo. Un po' dello spirito della dimensione c'è sicuramente. Bene. Questa è la situazione, la fotografia che abbiamo fatto ad oggi ma come vedete e come avete sentito è tutto in divenire. Vi teremo informati naturalmente. Grazie ai nostri ospiti, grazie al presidente della banca del credito cooperativo di Fano Romualdo Rondina, grazie al direttore generale Giacomo Falcioni e naturalmente grazie a voi per averci seguito. Grazie.